Calcio d'angolo, è l'ultima occasione per l'Ariano, calcio d'angolo battuto, un ennesimo calcio d'angolo ancora per l'Ariano. L'arbitro sta consultando il cronometro, il pubblico è tutto in piedi, rimessa di caso per Marinaccio, Marinaccio, Crossa. Sfiga, Sfiga ha segnato, Sfiga ha segnato al quarantacinquesimo. È stato un gol bellissimo all'ultimo minuto, Sfiga solo davanti al portiere, è riuscito a zaccare il gol che serve all'Ariano per la Serie D.